Ritroviamo ora il dottor Cesco Reale che oggi ci parlerà di l'antico Go e la moderna economia, un intervento che metterà in relazione il gioco cinese dei Weiqi con l'economia globale del nostro tempo. Diamo quindi di nuovo il benvenuto a Cesco Reale. Grazie, grazie Anna Maria. Allora, innanzitutto vi presento Leonardo e Sandro del club Veneto Go che ci assisteranno e vi faranno giocare alla fine di quest'ora. Cercherò di parlare tra i 30 e i 45 minuti per avere almeno qualche minuto per fare qualche partita così potete provare il gioco. Allora, innanzitutto questa presentazione è nata dal professor Maurizio Parton, professore all'università di Chieti Pescara che è anche presidente della federazione italiana Gioco Go. Io invece sono coorganizzatore del festival italiano di giochi matematici e mi occupo molto di gioco e di matematica e delle relazioni appunto tra questi due mondi. E quindi, diciamo, oggi, visto che il Go è un gioco di origine cinese, ho pensato di proporlo, visto che l'ospite di quest'anno qui al Toccati è la Cina. Allora, vedremo in breve le regole del gioco. Un'analogia classica contro un'analogia economica, quindi un'analogia del gioco con altri aspetti. Vedremo nell'analogia economica qualche concetto come investimenti, competizione, strategia e tattica nel gioco del Go, stabilità, profitto, poi arriviamo alle conclusioni e facciamo qualche partita. Allora, le regole in breve. Tanto per cominciare è un gioco millenario e, insieme al Gomoku che ho presentato ieri, è uno dei giochi di strategia più antichi al mondo. Difficile datarlo perché le datazioni, diciamo, certe ci portano al primi secoli prima di Cristo, però ci sono, diciamo, ipotesi che lo datano a duemila anni prima di Cristo. È un gioco estremamente semplice, cioè con regole estremamente semplici, ma di una grandissima profondità strategica, un grandissimo interesse strategico. Non so se avete sentito, a marzo c'è stata una notizia abbastanza interessante nel mondo del Go, nel mondo dell'intelligenza artificiale. Qualcuno si ricorda Deep Blue contro Kasparov? Sapete Kasparov, ex campione del mondo di scacchi? Una ventina di anni fa, nel 96-97, c'è stata una grande sfida contro Deep Blue, che era un computer progettato dall'IBM per sfidare il campione del mondo di scacchi. All'epoca i più forti programmi di scacchi non riuscivano a battere i campioni del mondo. Deep Blue è stato il primo, ed è stato un passo importante per l'intelligenza artificiale. Dopo questa sconfitta in cui l'uomo perdeva il passo, diciamo, il computer prendeva il sopravanzo sull'uomo e riusciva a battere l'uomo negli scacchi, restava sostanzialmente, come tra i più importanti giochi di strategia, restava il Go, solo il Go, come gioco sfida dell'intelligenza artificiale, in cui invece i programmi erano ancora nettamente più scarsi. Ecco, si pensava che ancora per decenni l'uomo sarebbe rimasto dominante, mentre invece a marzo Google Deep Mind, una società acquisita da Google l'anno scorso, ha organizzato una partita simile a quella che era stata all'epoca tra Kasparov Deep Blue, con un programma che si chiama AlphaGo, che è riuscito a battere l'Isadol, che è considerato il più forte giocatore al mondo attualmente di Go. E quindi anche il Go ha perso, anche nel Go l'uomo ha perso il primato. Questo ha risvolti molto importanti nel campo dell'intelligenza artificiale, che ha poi applicazioni in tanti altri settori di cui adesso non parliamo. Se vi interessa c'è una mia intervista al professor Parton sul numero di Mate di settembre, in edicola dal 20 settembre, da martedì. Mate è una rivista di divulgazione matematica. Quindi questo era giusto per dirvi, il Go è comunque un gioco molto importante anche nel campo dell'intelligenza artificiale. Vediamo come funziona. Abbiamo due colori, nero e bianco, posano a turno una pietra sul Goban. Questo è il Goban. Ha una precisazione, i termini che useremo sono tutti termini giapponesi perché il Go è entrato in Europa dal Giappone. Però il Go nasce in Cina e il nome cinese è Wei Qi. Wei vuol dire circondare e Qi vuol dire gioco da tavolo o tavoliere. Io per semplicità userò il termine giapponese che è anche più facile da ricordare. Quindi nero e bianco si alternano, giocano sugli incroci, delle pedine, delle pietre anzi, tradizionalmente sono delle pietre, si alternano, con queste pietre possono costituire delle catene di pietre, per esempio questa è una catena di due pietre. Queste sono due catene, una di due pietre e una di una pietra, perché in diagonale non c'è connessione. Queste sono sempre due catene. Allora si possono costituire delle catene, ecco questa è sempre una catena, si possono andare a costituire delle catene di pietre, con queste catene possiamo fare essenzialmente due cose. La cosa più importante è circondare del territorio. Ad esempio, io adesso le sposto ma nel gioco non si possono spostare, le sposto giusto per praticità, circondare del territorio. Allora qui per esempio il nero ha giocato cinque pietre e ha circondato, ha chiuso, questo non serve, ha chiuso questo territorio, questo territorio è costituito da sei incroci. Io adesso qui spiego le regole cinesi, quindi con le regole cinesi abbiamo cinque punti più sei fa undici punti, questo è un territorio di undici punti. Ok? Sono sei punti circondati, interrompetemi in qualunque momento se avete domande, alzate la mano e non c'è problema. Quindi questo è lo scopo del gioco, circondare del territorio. La seconda cosa che si può fare con le catene e che ha comunque lo scopo finale di circondare del territorio è catturare delle pedine avversarie. Per esempio questa pietra si dice che ha quattro libertà che sono i quattro incroci adiacenti. Se il nero gioca qui, questa pietra resta con tre libertà. Se poi il nero giocasse anche qui, quante libertà avrebbe ora questa pietra? Due. Esatto. Se poi il nero giocasse anche qui, quante libertà resterebbero alla pietra bianca? Una. Si dice che la pietra è in atari. Atari in giapponese vuol dire minaccia. Apro una parentesi. Per la cronaca, i computer atari si chiamano così grazie al Go. Perché quando decisero di scegliere un nome per il computer atari, c'era un goista che cercavano un nome orientale, c'era un giocatore di Go che propose il nome atari e fu scelto. chiusa parentesi. Se adesso il nero gioca anche qui, restano zero libertà e quindi cattura la pietra e la toglie. Ecco. Questo è il gioco. Alla fine del gioco a un certo punto ci sarà una situazione in cui il nero ha dei territori forti, il bianco ha altri territori forti, non c'è più interesse a continuare a giocare perché tutti i territori sono stabili, quindi si passa e si contano i punti. Chi ha più territori ha vinto. Questo è il gioco un po' nelle grandi linee. Poi quando andremo a giocare con Leonardo e Sandro, lì vedrete più in dettaglio ancora qualche altro elemento. qui facciamo questa piccola domanda. Queste due catene bianche circondano un territorio. Di quante intersezioni è costituito il territorio? Due? Chi offre di più? Tre? Chi offre di più? Tre uno? Tre due? Quattro! Quattro al signore lì in fondo. Allora, no, sono due. Sono due intersezioni di territorio. Più però il bianco ha giocato quattro pedine qui e quattro qui, quindi quattro e quattro a otto, più le due intersezioni di territorio sono dieci punti. Invece il nero? Volete provare? Abbiamo un cinque qui. Chi offre di più? Sei? Tre? Quanto? Undici sono? Qui ce ne sono sei. Due, quattro, sei, sette, otto, nove di territorio, più sette pietre giocate. Nove più sette? Sedici, esatto. Non me lo ricordavo, per fortuna mi siete venuti in aiuto. Qui la seconda regola della cattura che ho fatto vedere sulla lavagna. E adesso passiamo all'analogia, diciamo un po' alla filosofia del gioco. Allora, l'analogia classica che si fa è che il go ban, il ban vuol dire tavola, quindi go ban e tavola da go, è questo 19x19 intersezioni. Il go ban si può vedere come una zona di guerra, per cui localmente possiamo avere delle battaglie. Ad esempio, diciamo che qui il nero ha una pietra, quindi vuole prendere un po' questo territorio. Il bianco può fare quello che si dice un'invasione, cercare di rubare il territorio qui. Allora a questo punto il nero può cercare di chiudere il bianco per cercare di catturarlo. Il bianco ovviamente vuole scappare e così via. Il nero cerca di chiuderlo, il bianco cerca di scappare e così via. Allora, qui abbiamo localmente una battaglia. Quindi possiamo fare un'analogia classica in cui facciamo un'analogia tra il gioco e la guerra. Localmente ci possono essere delle battaglie e globalmente, quindi la parte tattica, quella che si dice parte tattica, e globalmente però c'è la parte strategica che si riferisce alla guerra, al piano globale. Per cui al di là delle battaglie uno poi pensa più in grande, ci sono tante battaglie e tutto insieme è un concetto di guerra. Questa è l'analogia classica che si fa normalmente con il gioco del Go. Infatti lo studio del Go veniva storicamente usato, in particolare in Giappone, per migliorare tattiche e strategie belliche. Questa è una cosa che avveniva anche in Europa, non con il Go, ma c'è un altro gioco che si chiama, si chiamano giochi di guerra con le miniature, non so se le avete mai viste. Si gioca con le miniature, un po' con i soldatini, però lo fanno gli adulti, ci sono regolamenti abbastanza complessi e si simulano, diciamo sono regolamenti che simulano le battaglie, per esempio napoleoniche o anche precedenti. E con questi giochi sembra che addirittura che siano nati con dei generali prussiani che creavano delle simulazioni del territorio con dei soldatini e si allenavano, allenavano la loro parte strategica, giocando sostanzialmente i soldatini, per appunto allenarsi e provare, simulare delle situazioni strategiche, tattiche, strategiche su un tavolo. Ecco, quindi una cosa analoga veniva fatta con il Go, in Giappone, a un livello un po' più astratto, però era un elemento importante nella formazione dei generali. vediamo ora invece l'analogia economica. Il Goban lo possiamo vedere come un sistema economico. I giocatori sono gli agenti economici, che hanno delle attività economiche da sviluppare. Le singole aree del Goban sono i mercati. All'inizio tutto è libero, per cui possiamo andare a prendere qualunque mercato, perché è ancora tutto vergine. L'analogia può essere, io ho ad esempio una catena di, prendiamo Vodafone, Wind, Team, per dire, o facciamo due, perché bianco e nero sono due, no? Allora facciamo Vodafone e Wind, non lo so. Allora, questo è il territorio nazionale e all'inizio è vuoto e io posso decidere, per esempio, di mettere un negozio a Roma, un altro a Milano e così via. Poi però posso mettere anche un secondo negozio a Roma. Poi però la Wind può venire e dire, no, però io a Roma voglio metterci anche io un negozio per prendere una parte di mercato. Ok? Questa è un po' l'analogia che voglio fare. Allora, giocare una pietra in una particolare area significa investire in quel mercato. Per esempio, questo è un inizio tipico, questo che vedete qui, si mettono pietre in alcune zone verso gli angoli e si cominciano a dare delle zone di influenza. Qui il bianco dice, diciamo il nero ha cominciato qui, per esempio, dice io comincio a investire in questa zona, voglio prendere, voglio avere un'influenza in quella zona. Poi il bianco risponde dall'altra parte, poi il nero qui, poi il bianco qui, quindi si cominciano a delineare delle prime zone di influenza che appunto possiamo paragonare degli investimenti in delle aree di mercato. Quando l'agente avversario valuta le vostre attività economiche troppo grandi o troppo numerose, inizierà una competizione. vediamo un esempio. Allora qui, questo esempio qui, il bianco considera che il nero ha un po' di vantaggio e quindi, perché diciamo che il nero delinea grossomodo quest'area qui, il bianco quest'area qui che è inferiore, quindi il bianco dice voglio prendere, voglio andare a rompere un po' le scatole al nero e voglio contrastare la sua influenza di mercato in questa zona e quindi gioca una bianca qui. E lì inizia una competizione. Vediamo un possibile sviluppo. La competizione in un mercato già controllato dall'agente avversario, come nell'esempio che abbiamo appena visto, è inizialmente svantaggiosa, perché io mi trovo a mettere un negozio wind in una zona in cui c'è già la Vodafone, quindi inizialmente sono in una posizione di svantaggio, però può trasformarsi in vantaggiosa. Allora vediamo qui un possibile sviluppo. È la situazione di prima, siamo andati un po' avanti, il nero ha contrattaccato, il bianco ha risposto e alla fine il bianco ha delimitato quest'area e il nero ha quello che si dice ha fatto influenza esternamente. Quindi c'è stato uno sviluppo nella situazione di mercato che ha condotto a una nuova situazione in cui il bianco è riuscito effettivamente a prendere una parte di mercato e il nero ha tratto altro vantaggio su un'altra zona. C'è stata un'evoluzione nella situazione di mercato. Allora la tattica serve a conquistare il singolo mercato, questa è una situazione tattica, una battaglia, quello che nell'analogia della guerra si riferisce alla battaglia. La strategia invece serve a decidere in quali mercati investire affinché le attività economiche collaborino tra di loro. Per esempio a livello strategico il bianco può dire, o il nero, può dire voglio giocare in questa zona e avviare una battaglia di mercato in quella zona oppure in un'altra zona. Quindi queste sono scelte strategiche. Una volta che io ho scelto di andare a mettere dei negozi su Roma, a quel punto poi c'entra la parte tattica in cui devo andare a vedere cosa succede fisicamente a Roma, in che zona, in che quartiere è meglio mettere il negozio, che strategie commerciali utilizzare nella zona che ho scelto. Questo è sempre un parallelismo tra strategia e tattica, cioè vedere la differenza che c'è tra la strategia a livello globale e la tattica a livello locale. Allora, nell'esempio precedente, nero è stato tatticamente corretto ma strategicamente ha fatto un grosso errore. Vediamo perché. Avrebbe potuto seguire un'altra strategia, per esempio, dopo, ricordate la situazione iniziale era questa qui, ok? Il bianco fa un'invasione nell'angolo in alto a sinistra. Allora, in questa possibile continuazione il nero ha chiuso il bianco di qua e l'ha fatto sviluppare in questa direzione. In quest'altra possibile continuazione l'ha chiuso invece l'ha fatto andare in quest'altra direzione, ok? Allora, senza entrare adesso nei dettagli del perché, però tatticamente questa seconda opzione è migliore, perché a lungo termine porta al nero un vantaggio, in quanto qui con questo muro riesce a creare una forte influenza in questa regione. Entrambe le situazioni, da un punto di vista tattico della battaglia, sono poi state giocate correttamente, cioè al meglio. Però la differenza è a livello strategico. Il nero in un caso decide di attaccare il bianco e farlo andare in una certa direzione, nell'altro caso sceglie un'altra direzione. Queste sono scelte, appunto, strategiche. ci sono domande nel frattempo? Ok. A un certo punto, quando la battaglia è arrivata a un certo punto, si decide di investire in un altro mercato. Perché? Ci sono varie possibilità. quindi, per esempio, nell'esempio di prima, qui, diciamo che la battaglia più o meno si è conclusa, nel senso che il bianco si ritiene abbastanza stabile, il nero è soddisfatto, a un certo punto, uno dei due giocatori considera che quella battaglia locale più o meno sa cosa succede, ha una certa stabilità, per cui decide di andare a giocare, quindi a investire, in un altro mercato. Allora, vediamo, per esempio, il concetto di stabilità. Quindi, una di queste possibilità, quando è che si decide di andare a investire in un altro mercato, quindi a giocare altrove, per esempio, perché il mercato è stabile. Ovvero sia, entrambi i giocatori possono realizzare solo piccoli margini di profitto investendo ulteriormente. Per esempio, nel, in questo esempio, qui, se il bianco aggiunge pietre, tra due giocatori, diciamo, che sanno giocare, sanno che qui il bianco ormai è abbastanza forte, quindi aggiungendo una pietra magari prende qualche punto in più, ma non molti. stessa cosa, il nero si rende conto che il bianco è anche abbastanza forte, se anche prova ad attaccarlo, magari gli ruba qualche punto, ma non riesce a cambiare drasticamente la situazione. Mentre invece altrove ci sono punti molto più importanti, in cui andare a giocare vuol dire investire in un nuovo mercato, creare nuove opportunità, prendere altro spazio. Diciamo che un concetto molto importante nel Go è che, adesso ve la dico così un po' rapida, però diciamo che una pietra più ha spazio attorno e più ha influenza. Quindi, ve lo faccio vedere qui, a inizio gioco, diciamo che siamo così, a inizio gioco diciamo che io gioco qui, poi il bianco risponde qui, poi il nero per esempio prende questa, poi il bianco così e così via. Poi adesso sono stati presi gli angoli, a questo punto si cominciano a prendere i bordi, per esempio si può giocare in questa zona, però non si gioca qui. Perché? Perché qui sto fortificando una zona in cui già ho un'influenza, qui invece sto veramente prendendo un'altra zona, quindi immaginate che ognuna di queste pietre irradi una certa influenza attorno a sé, è come dire che qui così ho un territorio al 95%, facciamo così, così è come dire ho questo territorio al 95% e così ho due territori al 90%, globalmente è più importante. Quindi, tornando all'analogia di mercato, è come dire, io metto a Roma due negozi Vodafone, io sono Vodafone, metto due negozi molto vicini, così domino completamente quel quartiere di Roma, sono sicuro che il mio avversario, Wind per esempio, non riuscirà a competere con me. Però nel frattempo sarebbe per me, in realtà, mi Vodafone sarebbe più utile mettere un negozio a Roma e l'altro magari a Milano e cominciare a prendere una fetta di mercato anche a Milano. Ok? Questa è un po' l'analogia. Quindi, tornando dal concetto di stabilità, quindi una possibilità per avere un momento in cui si va a giocare altrove è che il mercato è stabile e quindi, come abbiamo visto prima, entrambi possono realizzare solo piccoli margini di profitto giocando in quella zona, l'abbiamo visto prima, quindi non conviene continuare a giocare in quella zona, conviene andare a investire in un altro mercato. Un'altra possibilità è che il mercato è stabile e l'agente avversario ha una posizione di predominio e qualunque vostro investimento aumenterà la perdita. Cioè, in quella zona il nero, per esempio, sta dominando e quindi, diciamo che abbiamo una situazione di questo tipo, il bianco qui è molto piccolo, il nero fuori è forte e il bianco si rende conto che andare a spendere ulteriori energie in questa zona non gli apporterà particolarmente profitto, un particolare profitto in più, in termini di territorio, diciamo così, di punti. Quindi, anche in questa situazione il mercato ormai è diventato stabile, è il nero che sta dominando quella zona, il bianco è piccolo, entrambi non hanno, nessuno dei due ha interesse a continuare a giocare in quel contesto e quindi va a aprire un nuovo mercato. Questo è, diciamo, il simmetrico di prima, siete voi che avete una posizione di predominio. Un'altra possibilità è che il mercato è instabile. Allora, c'è una situazione ancora aperta, diciamo che non è così ben definita, diciamo che c'è una situazione complessa che adesso non vado a descrivervi, per cui non è ancora chiaro che cosa succede, però ci si rende conto che ci sono altre zone ancora completamente vergini e quindi si decide di andare a prendere un altro mercato vergine, anziché continuare a investire energie in quel mercato dove c'era la battaglia prima. In questo caso è un mercato instabile, però altri mercati hanno bisogno di investimenti, per cui la vostra attività economica, voi siete comunque tranquilli che non collasserà, quindi dite, va bene, io ho raggiunto il mio obiettivo diciamo momentaneo, sono contento, non so esattamente gli sviluppi di quella situazione, perché il mercato è ancora instabile, però ci sono altri mercati ancora molto importanti. Chiaramente se invece ci fossero tutti i mercati già presi, per cui non ci sono veramente mercati vergini, tutto è già abbastanza delineato, allora invece converrebbe continuare a giocare in quella zona, ma in una situazione del genere ci sono ancora molte aree libere per cui possiamo decidere di andare a investire in un altro mercato. Allora vediamo un concetto di profitto. Il profitto determinato dall'investimento può assumere varie forme, ad esempio i prigionieri. abbiamo visto prima come si cattura una pietra, qui giocando in A, cosa succede? Se il bianco gioca in A, cosa succede? Vi ricordate? Cattura, esatto, cattura la pietra nera, giusto? Quindi è un prigioniero. Ora il tasso di interesse, cioè il guadagno sul capitale investito è molto basso, perché abbiamo investito quattro pietre per fare un punto di territorio al centro più i quattro attorno, abbiamo investito quattro pietre per fare cinque punti. Vi faccio vedere che è abbastanza basso, adesso vi faccio vedere l'altro esempio che invece è migliore. Territorio. Allora qui il nero ha giocato quante pietre? Sette. E quanti punti ha? Sedici. Perché il territorio è tre per tre, sono nove punti, più sette, sedici. Giusto? Quindi con sette pietre investite abbiamo sedici punti. Quindi vedete che qui il profitto è maggiore, cioè rispetto a quello che ho investito ho un rendimento maggiore. Dovrete spiegare alle cinesi, dovete rassegnarvi, almeno oggi. Adesso altro concetto di cui ho parlato brevemente prima, un altro paragone che si può fare. Qui tra nero e bianco, secondo voi? Voi preferireste essere il bianco o preferireste essere il nero? Bianco, bianco, qualcuno nero? Nero. Ok. Perché nero? Ah, tu dici perché il territorio è già chiuso e quindi ho già... Eh sì, è giusto, il territorio lì è già chiuso, mentre invece il bianco non ha ancora chiuso nulla. Però, però, come? Sì, questo è perfettamente giusto. Il nero qui ha un territorio chiuso, no? Se arrivassimo a fine partita, quello è un territorio chiuso, fa punti, mentre il bianco non ha ancora nessun territorio chiuso. Giusto? Però, richiamo il concetto che ho detto prima, una pietra più ha spazio attorno, più ha influenza. Quindi, io qui è come se avessi messo sette negozi tutti a Roma e io Vodafone, per esempio, e la Wynn nel frattempo ha messo una a Verona, una a Venezia, una a Trieste, una a Milano e così via. Quindi ha preso in maniera meno forte tanti punti, tante altre città, per cui globalmente in una partita del genere, se voi la giocate, il bianco qui ha un grande vantaggio. Perché a fine partita, certo, non è che il bianco avrà tutto questo territorio qui, però avrà una buona percentuale di quel territorio. Mentre il nero qui ha questo territorio qui, diciamo, al cento per cento, però è piccolo. Ok? È chiaro l'analogia o ci sono domande? Diciamo, nel gioco, quello che si vede poi sviluppa, andando a giocare tra giocatori, diciamo, che sanno giocare, non parlo di principianti, ovviamente, però tra giocatori che sanno giocare, sviluppando questa situazione di gioco, cioè continuando a giocare, si vedrà che il nero qui potrà fare, tra due giocatori di pari livello, il nero potrà fare degli attacchi, potrà rubare magari un po' di territorio qui, un po' di territorio lì, però globalmente il bianco qui ha una forte influenza e riuscirà a convertire in territorio una grande percentuale di questa zona di influenza. E quindi alla fine ha un vantaggio rispetto al nero. Territorio potenziale, questo è un altro termine giapponese che si chiama moio. Ecco, qui per esempio, il moio è un territorio potenziale, questo qui per esempio è un territorio potenziale, nel senso che, come diceva giustamente Francesca, questo non è un territorio chiuso, mentre quello di prima del nero era chiuso, qui il bianco sta delineando un territorio, questo territorio non è chiuso, però diciamo ci sono delle buone possibilità di riuscire a chiuderlo, o comunque c'è una forte minaccia di poter chiudere quel territorio e di fare molti punti. Questo è il concetto di moio, un territorio potenziale. Ora, possiamo fare l'analogia, il moio è un mercato ampio ancora aperto alla competizione, che però è stato fortemente influenzato dai propri investimenti, qui propri si riferisce al bianco, cioè il bianco qui ha investito delle pietre per delineare questo territorio, il mercato è ancora aperto alla competizione perché il nero può ancora giocare lì dentro e chissà che succede, magari riesce a rubare un bel pezzo di quel territorio. Però il bianco ha investito e sta influenzando fortemente quel territorio. A questo punto l'agente avversario, se vuole contrastare questo moio, quindi questi investimenti che il bianco ha fatto in quella regione, deve investire in questo territorio potenziale se non vuole che esso si trasformi effettivamente in un territorio chiuso. E quindi per esempio può provare il nero a giocare in A, un esempio, ci sono altre mosse possibili, per cominciare a mettere un avamposto e creare un po' di scompiglio e provare a prendere del territorio in quella zona. Quindi contrastando lo sviluppo del bianco, gli investimenti del bianco. infine, vediamo il concetto di spessore, che sarebbe sostanzialmente, qui c'è un muro, si usa questo termine, creato dal bianco, che anche può essere utilizzato per avere un un'influenza in questa zona qui e ottenere del territorio in quella zona lì. Allora, possiamo fare anche qui un'analogia con investimenti forti in un mercato aperto che minacciano di diventare profitto. È un po' simile al concetto di prima del moio, anche qui c'è un territorio potenziale, è meno delineato, diciamo così, perché è delineato soprattutto da una parte, dall'altra non ancora. Allora, anche qui, se la gente è avversario, quindi il nero, vuole evitare che il bianco qui si solidifichi e faccia un grande territorio, deve investire molto in questo mercato. Per esempio, in A. Comincia a giocare lì, sperando di prendere del territorio da quella parte e ridurre il territorio del bianco. Cosa succede però? Che il bianco può attaccare questa pietra nera che dovrà difendersi e in questa maniera il bianco otterrà comunque un profitto in altri mercati. Per esempio, attaccando questa pietra nera, il bianco potrà fare un muro da questa parte e solidificare la sua influenza in questo territorio. Quindi, ancora una volta, è un concetto simile a quello che abbiamo visto prima. C'è un discorso di un agente che ha già investito molto in un determinato mercato e l'altro agente che cerca di contrastarlo. In conclusione, il Go è un gioco in cui è necessario essere equilibrati. Non si può evitare che l'agente avversario conquisti una porzione di mercato. Allora, qui possiamo fare un parallelismo con gli scacchi. Negli scacchi l'obiettivo è distruggere l'avversario. I concetti di tempo e di spazio negli scacchi sono dei mezzi per arrivare alla distruzione dell'avversario. Nel Go, invece, l'obiettivo è il territorio, quindi lo spazio. E l'obiettivo non è distruggere l'avversario, l'obiettivo è prendere un po' più di mercato dell'avversario, quindi un po' più di territorio dell'avversario. E questo è sufficiente per vincere. Il tempo e la possibilità di uccidere l'avversario, cioè di uccidere e di catturare catene dell'avversario, sono due mezzi per l'obiettivo finale, che non è appunto uccidere l'avversario, ma è lo spazio, il territorio. E quindi, in questo senso, nel Go c'è sempre una ricerca di equilibrio. Nel senso che, se siamo in battaglia e io cerco di distruggere completamente l'avversario, molto probabilmente disperderò le mie forze, se siamo due giocatori più o meno dello stesso livello, probabilmente disperderò le mie forze e non riuscirò nel mio intento. Quello invece che si fa nel Go è cercare di contrastare l'avversario lasciandogli una parte, sperando certo di riuscire a avere un po' più di territorio dell'avversario per poter vincere. Però vedete che la filosofia del Go e, direi, dei giocatori di Go è anche molto diversa. è una filosofia molto più, ecco, appunto, mirata a una ricerca di equilibrio. E, direi anche una cosa di più, una ricerca di estetica. Nel Go si parla spesso di belle forme. Imparare a riconoscere una bella forma con una forma efficace. E' efficace anche nei sensi che abbiamo detto prima, nel senso economico del termine. Cioè una forma che, investendo poche pietre, fa molto territorio, per esempio. Noi abbiamo visto alcuni esempi prima. Quindi, ecco, sono dei concetti che, secondo me, sono molto importanti nella filosofia del gioco del Go. Quindi, Go nell'economia condivisione, scacchi nell'economia monopolio. Il vincitore, nel Go, sarà l'agente economico che ha massimizzato l'efficienza degli investimenti. Cioè colui che ha realizzato più profitto a parità di investimento. Ovvero sia più territorio a parità di pietre investite. Prego. Aspetta, do il microfono. Mi è venuta questa analogia di nuovo con l'economia, che forse nella filosofia del Go e del giocatore del Go, l'investimento a medio-lungo termine porta più profitto dell'investimento a breve termine. Mi è venuto questo. Cioè andare, come dici tu, a distruggere l'avversario in quel territorio a breve termine, cioè focalizzarsi su quella tattica lì, in quel momento lì, ti porta di meno a pensare invece, aspetta che devo avere sott'occhio tutta la partita. E dunque un investimento a medio-lungo termine. Mi porterà più profitto. Sì, sì, penso che si possa parlare in questi termini. Che ne dici Sandro? No? Io sono dell'opinione che la multiforme sfaccettatura che consente il Go nel campo di queste metafore, anche in campo economico, ma in generale, anche in molte altre aree della speculazione scientifica, consenta correttamente di metaforizzare sia investimenti a breve, che a medio, che a lungo termine. Quindi, questione aperta, interessante, ma da dibattere. Allora, vi lascio con una brevissima bibliografia, in particolare, la pagina di economia sulla biblioteca Sensei, che parla appunto di questi concetti, e un libro di Miura Yasuyuki, che fa proprio un paragone tra, da una parte, scacchi e Go, nel campo dei giochi, e dall'altra, sistema economico occidentale e orientale. Giapponese in particolare, perché lui è giapponese. Ma non solo. Ecco. Io vi ringrazio, e lascio a questo punto spazio ai giochi. Abbiamo lì i tavoli, con Sandro e Leonardo, e andiamo a giocare, a fare qualche piccola partita. Grazie. Grazie.